Ciao tifoso bianconero benvenuti nel canale Juventus oggi. Iscrivetevi al canale e lasciate un like al video, per non perderti nessuna novità dalla Juventus. Uno dei grandi bersagli bianconeri per il centro difensivo sarebbe Giorgio Scalvini. Il contratto di Scalvini con l'Atalanta dura solo fino all'estate del 2023, e ci sono già club in Italia e in tutta Europa che stanno monitorando la situazione del difensore, e la Juventus sarebbe anche alla ricerca di Scalvini. La Juve crede che diventerà un pilastro della nazionale italiana nei prossimi anni. Giorgio Scalvini ha buona tecnica e buon colpo di testa, il difensore gode di una buona statura con 1,95 m di altezza. È stato anche paragonato molto ad Alessandro Bastoni. La Juve sarebbe disposta a fare un'offerta nei prossimi mesi, ma dall'Atalanta sono arrivate brutte notizie. Il club bergamasco vuole per lui almeno 50 milioni di euro. La Juventus continua a monitorare Scalvini ma ora un po' più distante. Cosa ne pensi di Giorgio Scalvini vale i 50 milioni di euro? Voglio sapere la tua opinione. Grazie a tutti.